I padri della Chiesa dicevano che quando si parla di Maria non si è mai sazi. Maria, ovviamente sto parlando della Madonna, della Vergine Maria, della Madre di Dio e della Madre di Cristo, però io voglio introdurre questa puntata della rubrica che ormai conduco da più di un anno parlando in questo mese di maggio che è il mese mariano per eccellenza anche del mese dei fiori, parlando della storia che c'è dietro a questo mese dei fiori e anche della spiritualità, spiritualità cristiana. Che cultura? In questa rubrica io non solo parlo di religione, di spiritualità, ma mi piace anche affrontare altri temi, altri argomenti, pensando, questo lo spero, che ancora la religione, la fede facciano parte della cultura. Un argomento oggi che è una sfida perché in un tempo in cui la religione è relegata alla vita privata o a qualche cosa di intimistico, dove si separa vita, vita sociale e fede, spiritualità, è difficile farlo rientrare nell'aspetto culturale. Oggi la difficoltà più grande è proprio fare cultura. Una volta il cristianesimo faceva cultura, oggi invece non riesce a fare più cultura. Forse è una questione di linguaggio, di cambiamento di valori, di paradigmi, ma non è in questa puntata che io me ne voglio occupare, anche perché l'argomento è un argomento molto ampio, quindi ci vorrebbe tanto tempo. Però voglio parlare, come vi dicevo, a proposito di questo mese mariano, il mese dei fiori. Il mese in cui di solito si facevano le infiorate, pensiamo anche a tante città dove c'è questa bella esplosione di colori, perché è la primavera l'esplosione della natura, che ha un legame anche con la Vergine Maria. Io quando all'inizio ho voluto esordire con questa frase, che parlare di Maria non ci si sazia mai, perché Maria è quel sì che nell'incarnazione ha aperto l'ingresso di Dio nel mondo. Questa è una notizia, un avvenimento inedito, sorprendente, sovversivo, io direi. Guardando a Maria, noi sentiamo questa affettività, questa emozione, non solo culto o devozione. Il mese mariano, il mese di maggio, rientra in questo mese dei fiori. Abbiamo iniziato con la festa dei lavoratori e noi proseguiamo, non soltanto come il Papa ci ha incoraggiato nei santuari mariani, la preghiera del Santo Rosario nelle famiglie, nelle parrocchie, nella vita personale, di chiedere a Maria la liberazione, la liberazione da questa pandemia. Maria è la donna, è la donna della liberazione. Rimarrà scolpito nella nostra memoria, nella memoria anche dei più giovani, questo tempo di Covid-19. E allora vi dicevo che maggio si apre con tante feste, inizia con la festa dei lavoratori, tante celebrazioni e noi non possiamo dimenticare le infiorate. Si facevano le processioni religiose e quest'anno purtroppo tutto viene rinviato. A quale data ancora noi non sappiamo. E i diversi rituali hanno uno sfondo non solo religioso, ma anche politico, civile e sociale. Pensiamo al giorno, alla seconda domenica di maggio, dove poi si festeggia anche la festa della mamma. La festa della mamma, regaliamo un fiore, una rosa alla nostra mamma. Oppure giorno 22, la festa di Santa Rita, la festa delle rose. Vedete come c'è questo legame, il legame tra la fede e la natura. Ma nel mese di maggio succede qualche cosa di particolare. Non solo c'è questo risveglio della natura, siamo nel clou della primavera. Ma, ripeto, è il mese Mariano. È il mese Mariano per eccellenza. E ognuno dà un senso alla primavera. La politica, i lavoratori, la società e anche la fede religiosa. I miti greci, siamo nell'ambito della mitologia, celebravano il culto della morte e della rinascita, come quello di Demetra. Di Demetra e di Persefone. Il mito, dalle nostre parti, c'era anche questa venerazione alla dea Demetra. Una statua, una statua che era stata rinvenuta nella vicina Locri, ma poi è stata saccheggiata, rivenduta. Adesso si trova esposta in un museo, se non sbaglio, in Inghilterra. L'Italia, in maniera particolare alla Calabria, dovrebbe impegnarsi a chiedere questa restituzione, perché chi l'ha venduta forse nemmeno si rendeva conto del valore artistico, culturale, storico di questa statua. Allora, a proposito del mito di Demetra e di Persefone, di morte e di rinascita. E questo mito parla della fertilità, della fecondità, dei campi verdeggianti, dove Demetra smise di dare frutti, di dare primavera, di rendere feconda la terra a causa del rapimento della figlia. Fu rapita da Ade, con un inganno, con un sortefugio. Ade è il signore del regno dei morti. E allora, poi ci fu questa concessione. Persefone rinasce in primavera, dove restituisce a Demetra, che era affezionata, innamorata della figlia, e soltanto per alcuni periodi dell'anno restituisce la figlia. E allora Demetra concede questa fertilità. E' bello come gli antichi raccontavano, in maniera leggendaria, mitologica, raccontavano la natura, l'evolversi delle stagioni. Però Persefone rimarrà sempre legata a questo mondo dei morti. Io dicevo che c'era questo culto, non soltanto c'erano dalle nostre parti dei templi dedicati agli dei che erano venerati in Grecia, ma c'era questo culto alla dea Persefone, o Core, come veniva chiamata, o Proserpina da parte dei latini. E' un culto simile, pensate, che si ritrova anche nei Romani. Perché i Romani, quando andavano ad occupare altre, a conquistare altre terre, poi importavano cultura, rimanevano affascinati dai miti egizi, dai miti greci. E allora, pensate che inserirono il culto di Core anche nel Pantheon, che ha avuto l'opportunità di visitare il Pantheon a Roma. E' bellissimo questa struttura, questo tempio, che il Pantheon è dove si veneravano tutti gli dèi. E allora loro, i Romani, avevano importato il culto della dea Cibele. Anche questa è una dea della natura, della fertilità, della fecondità. E anche qui si racconta un simile racconto a quello greco, che ha a che fare con la morte e la rinascita. L'amante di Cibele, l'amante di Cibele, che è Aptis, dopo che la dea aveva scoperto il tradimento, lui si uccise evirandosi. E grazie al sacrificio che morì dissanguandosi, la terra era ritornata a fiorire. Sono racconti che poi in se stessi hanno un fondo di verità. E sono racconti che hanno un profumo anche religioso cristiano. La risurrezione, rinascita, risveglio, primavera, rinnovamento. Insomma, è un tempo consacrato alla divinità. La religione è sempre esistita. L'uomo è stato sempre religioso, fin dalla sua comparsa. E ha voluto raccontare in un certo modo quello che avveniva. Alcuni forse diranno, nel tempo del razionalismo in cui viviamo, oggi viene spiegato tutto in maniera scientifica. Ma anche lo scienziato ha una forma di religione. E incuriosisce un dato in questo mese mariano che è molto caro alla devozione, alla fede popolare, che è uno sviluppo storico di litanie, di preghiere, di venerazione, di pellegrinaggi ai santuari, quando questi qua si potevano fare, dove c'è uno scambio. Uno scambio tra la natura, la dea pagana della primavera, dove poi si inizia a sostituire la venerazione a Maria. I romani avevano importato questi culti, però cambiavano il nome, la dea maia. La dea maia dove veniva incoronata con tanti fiori e tante rose. La regina, chiamata la regina del cielo, che poi i cristiani hanno sostituito questo culto con il culto a Maria. Le icone mariane si profumano, si coronano di fiori. E questo richiamo alle rose, è un richiamo che rinvia alla Vergine delle rose, dal quale si è sviluppato la preghiera del rosario, il cui riferimento al fiore è molto evidente. Rosario non è una preghiera ripetitiva, non è una preghiera meccanica, ma è una preghiera di contemplazione. Forse questo noi l'abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato che siamo chiamati ad essere contemplativi, ad immergerci nel mistero. Il rosario è una preghiera bella di amore, di affetto, di slancio, una preghiera in cui chi prega ripercorre gli episodi biblici e evangelici più importanti della vita di Gesù e della vita di Maria. È la preghiera dei semplici, dei poveri, ma è anche la preghiera nostra, che noi non siamo chiamati ad avere a chissà quale teologia o chissà quali pensieri, perché abbiamo bisogno di nutrirci di questa semplicità, di questa bellezza. E il rosario è sempre la preghiera comune, tradizionale, quella preghiera che ci unisce tutti. Chi non sa pregare un Ave Maria o dire dieci Ave Maria di seguito, soffermandosi su quel mistero. San Giovanni Paolo II aveva scritto a proposito anche una lettera sulla preghiera del Santo Rosario, soffermandosi sugli sguardi di Maria Maria, sguardi penetranti, quegli sguardi verso Gesù pieni di amore. Fiori, preghiere, doni votivi, sono poi tutti gesti e offerte che si fanno durante questo mese. Io penso quando era possibile il pellegrinaggio di alcune statue mariane, oppure il pellegrinaggio nelle famiglie, o quando anche i parroci andavano in alcuni quartieri a celebrare. Maria ravviva la nostra fede. Che bellezza questa, perché Maria ci fa esplodere di questo affetto, di questo abbandono e noi ne abbiamo bisogno. E io a proposito di questo mese mariano, il mese dei fiori, il mese del risveglio, il mese della primavera, vi voglio parlare di un'antica antifona mariana. non è la più antica. Che si canta è nella liturgia. Mi ricordo quando ero seminarista a Roma, al Collegio Capranica, la sera dopo aver cenato, andavamo tutti in un piccolo cortile e cantavamo davanti all'icona mariana questa preghiera del Regina Cieli. Regina del Cielo, rallegrati, alleluia, Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto, come disse, alleluia. E si canta per 50 giorni fino alla Pentecoste. Ed è un'antifona mariana antica. Pensate che c'è una storia dietro. La storia racconta, innanzitutto voglio dire che sono quattro le antifone mariane più antiche. C'è l'Ave Regina Cielorum, Alma Redentoris Mater e poi c'è anche la Salve Regina. E le origini di questa preghiera alla Regina del Cielo sono origini molto antiche. c'è sempre dietro la leggenda. La leggenda. Ma nella leggenda c'è sempre un fondo di verità. E allora la leggenda medievale risale al Papa Gregorio Magno nel VI secolo. Siamo intorno al 590 circa. La popolazione è decimata dalla peste. Quindi la pandemia non è un fatto nuovo. Nei tempi, nei periodi dell'umanità ci sono state sempre queste pandemie. E il Papa durante una processione penitenziale implora la fine di questa epidemia. Insieme ai fedeli mentre attraversano il Ponte Elio dall'alto del mausoleo di Adriano videro un angelo e una voce celeste che cantava che bello questo canto gregoriano. e l'apparizione dell'angelo era un segno. Un segno che la peste sarebbe terminata e stava rimettendo la spada insanguinata nel fodero. Allora questa preghiera che io mi auguro le nostre comunità conoscono che mi auguro che sia cantata e anche nella preghiera personale che poi sostituisce in questo breve periodo l'angelus l'angelus che noi dovremmo pregare tre volte al giorno mattina mezzogiorno e prima del tramonto. Questa è una preghiera una preghiera che non è soltanto una invocazione ma è una preghiera che è una risposta di Dio alle preghiere del Papa e poi Papa Gregorio Magno trascrisse questa preghiera e aggiunse ora pro nobis. Ovviamente ci sono anche tante altre versioni chi dice che non sia stata questa situazione dell'origine della Regina Celi qualcun altro la fa a risalire a Papa Gregorio V vinto nel 999 dove la diffusione gioiosa di questa antifona mariana non ha origini precise per questo poi ci sono delle leggende e bisognerebbe fare delle ricerche appropriate una cosa certa è che è documentata nell'uso della liturgia fin dal XIII secolo ed era stata inserita anche nel breviario francescano tanto che Pio V nel 1568 la ripropose nel breviario romano e nel XVIII secolo anche Papa Benedetto XIV prescrisse di recitarla nel tempo pasquale dell'Angelus Domini è quello che io vi dicevo vi dicevo che nei 50 giorni della Pasqua sono giorni che partono dalla Domenica di Pasqua alla Pentecoste viene recitata Regina Cella al posto dell'Angelus Domini e al centro della Regina Cella che cosa c'è? l'annuncio pasquale la gioia di Maria la gioia della Chiesa della Resurrezione del Signore e questo è lo specifico del cristiano il cristiano che vive la gioia del risorto che riecheggia di cuore in cuore e si proclama in tutto il mondo è una priera molto breve si può pregare in latino oppure si può pregare in italiano è un testo breve profondo cantato pregato dove si canta insieme alla madre del risorto ed è una preghiera dedicata alla Madonna sono tante le preghiere io ho citato soltanto alcune antifone mariane però pensate quando si canta il Magnificat la sera tutta la Chiesa canta insieme alla Vergine e questo inno umile rivolto a Dio e sarebbe bello contagiarci da cuore a cuore un messaggio pasquale di speranza anche in questo tempo molto difficile stressante dove la speranza è il cuore di tutto di essere liberati quasi quasi un sospiro di sollievo un tempo anche di ferite di crisi di lavoro di lutti di disagi di emarginazione di problemi economici facciamo risuonare questo grido pasquale della Regina Celi e la preghiera anche richiede un atteggiamento una postura andrebbe cantata o pregata in piedi e l'atteggiamento del risorto dei redenti davanti all'agnello dell'Apocalisse che sta ritto in piedi in mezzo il segno per eccellenza del cristiano che indica la vittoria dell'amore vedete quando si parla di Maria non si smette mai non si smette mai perché Maria risveglia la fede Maria ci porta a Gesù ad Iesum per Maria diceva qualcuno ma qualcun altro diceva anche mi piace questa espressione chi non è mariano non è cristiano non è dommatica però mi piace questa espressione perché noi sì possiamo andare a Gesù direttamente però Maria ci porta Maria non è che è la mediatrice qui non stiamo a distinguere dal punto di vista soteriologico e quindi la precedenza non è Maria Maria ci porta a suo figlio ed è il cuore della fede e della spiritualità in cui si riconosce a Maria questo protagonismo umile nell'incarnazione in questo mese primaverile io vorrei dire una cosa alla conclusione di questa puntata dedicata alla Vergine Maria mi piace quel canto a proposito di Dante nel Paradiso riporta un versetto attribuito a San Bernardo di Chiaravalle nel ventre tuo si riaccese l'amore che noi cantiamo nella liturgia dell'ufficio divino nel ventre di Maria si riaccende l'amore Maria riaccende riaccende tutto io penso quando anche nelle nostre comunità facciamo una festa c'è una memoria dedicata a Maria ai nostri santuari mariani come si accende e dovrebbe accendersi anche il nostro cuore pieno di carità non basta no non è assolutamente sufficiente che noi ci mettiamo abbiamo le icone mariane e poi i nostri cuori non siano pieni di compassione di amore di attenzione verso l'altro allora sì che è un culto eccessivo che non tocca la nostra la nostra vita Maria non va guardata come una divinità ma è una creatura umana e la sfida più grande è proprio questa integrare la spiritualità con la giustizia sociale io faccio questa preghiera Maria che ci liberi liberi il nostro territorio da tanta ingiustizia da tanta corruzione da tanto egoismo da tanto individualismo la sua missione è una missione incarnata è liberante ed è la portatrice di una grande promessa direbbe Papa Francesco è l'influencer di Dio lei è madre è sorella è sposa nella sua carne è inciso è stampato l'amore di Dio scrive un grande innamorato di Maria Hermes Ronchi che è carne benedetta lei che ha detto sia lo spirito di Dio è diventata casa del vento abbracciata dallo spirito santo che ha saputo custodire e proteggere Gesù insieme a Giuseppe siamo nell'anno Giuseppino dedicato al patriarca al custode del redentore al patrono della chiesa universale e Maria ci invita a vivere poi la nostra ferialità come obbedienza 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 a Dio nella nostra vita domestica nella nostra vita povera di tutti i giorni a spezzare il pane e mi piace vado alla conclusione in questo mese ricordare una bella memoria di Maria ausiliatrice e la Madonna al quale sono devoti i salesiani voglio esprimere un devoto affettuoso e filiale ricordo ai salesiani dove io ho studiato per quattro anni Don Bosco fondatore dei salesiani era innamoratissimo di Maria ma Maria la vedeva come una persona concreta immagine plastica anche di sua mamma sua mamma che l'ha educato alla fede una vita semplice povera ma bella e l'ha così educato dove vedeva in mamma margherita la presenza di Maria e lui non è che si è inventato la Madonna ha preso un titolo che era venerato anche nelle litanie del Santo Rosario Auxilium Christianorum e vedeva in ogni situazione in ogni occasione Maria ausiliatrice presente questo volto umano feriale divino oggi la nostra società ha bisogno di umanità ha bisogno di Maria ha bisogno di stupore ha bisogno di meraviglia ha bisogno di contemplazione quello di riprendere a curare la vita i nostri incontri le nostre relazioni ad avere più amore per noi stessi per gli altri nei gesti nella concretezza e forse la perdita di credibilità di significatività del cristianesimo che non riesce più a fare coltore è proprio questo che non abbiamo fatto esperienza ancora di una profonda relazione con Gesù con Maria allora siamo chiamati a scoprire in ciascuno di noi le tracce di Dio anche in noi Dio con il dono dello Spirito Santo e nel battesimo ha stampato ha inciso il suo amore non dobbiamo avere paura i nostri cuori non si devono indurire perché il bene ha un sì definitivo un sì che noi vogliamo esprimere a Maria e chiedere di accompagnarci in questo tempo Maria ausiliatrice e aiuto di cristiani prega per noi per le nostre famiglie per il mondo intero per la nostra società e per la nostra Calabria e liberala da ogni male per le nostre famiglie per la nostra società per la nostra società per la nostra società per la nostra società